Per quale ragione tra tutti gli sport che convenzionalmente i bambini praticano, parto dal più semplice, diffuso, popolare, forse banale come scelta come il calcio, per noi italiani è normale, che fai? Vai giocare a calcio, pulcini eccetera eccetera, chi magari ha dei gusti più raffinati o delle possibilità superiori, va col tennis, con lo sci eccetera eccetera, ma perché un bambino dovrebbe praticare paddles secondo te? Proprio perché questo non distingue la fisicità o tante cose che invece altri sport sarebbero più selettivi, perché se vuoi andare a giocare a calcio e sei già sovrappeso sei già un attimino penalizzato, se sei una bambina il calcio femminile è meno sviluppato dal calcio maschile, invece qua non fa distinzione maschi e femmine, non fa distinzioni di età, di colori, di razze e per cui è aggregante e abbatte le barriere. Non c'è problemi perché qua non soffri, il paddle aiuta anche, io lo vorrei usare anche per quello che sono i problemi della solitudine, per quelli che sono i problemi del bullismo, perché il paddle ti aggrega davvero e ti porta a fare amicizia, a battere, non c'è quella competitività, quell'agonismo, perché a paddle dimostra che anche quello meno prestante fisicamente potrebbe essere… Può averla meglio. Può averla meglio perché è più intelligente nella visione del gioco. Può averla meglio, Grazie a tutti.